Ciao a tutti, allora riprendiamo il discorso che abbiamo lasciato in sospeso la scorsa volta. Come ben sapete nel precedente video, nella precedente chiacchierata che abbiamo fatto, si è parlata della fuga strategica del Messia politico, quindi abbiamo parlato di quel ritorno in Galilea di Gesù a seguito dell'arresto di Giovanni il Battista. Ma detto che a seguito di quel video ho ricevuto molti commenti pubblici e molti messaggi in privato, molti di questi che mi dicevano, ma come Francesco, come si può parlare in questo caso di una fuga addirittura strategica e quindi pianificata nel corso del tempo per quanto riguarda Gesù, un Gesù che è sempre definito figlio di Dio, quindi un Gesù che sta in quel caso, si sta adoperando per seguire e per eseguire gli ordini dettami della divinità. Quindi come è possibile tutto questo? In realtà Gesù sapeva di tutto quello che stava accadendo e così come sapeva anche di questo, andare in Galilea, di questo ritorno verso la Galilea per ragioni che il testo chiaramente ci dice, no? Di evangelizzazione, quindi di conversione delle persone. Io rispondo brevissimamente ricordandovi come tutti i video che io sto facendo, in questo caso i video di in principio, l'orbica di in principio, vogliono essere i video di carattere storico, consci del fatto che le fonti a nostra disposizione, in questo caso le fonti principali, cioè i Vangeli, non sono fonti storiche, quindi non sono documenti di carattere storico, ma dove si potrebbe, quindi qui il condizionale è d'obbligo, dove si potrebbe ravvisare un qualche carattere di storicità in alcuni momenti, quindi in alcune sezioni dei Vangeli. E dove si può ravvisare questo carattere possibile, carattere storico, allora in quel caso bisogna contestualizzare. Quindi quando si parla in questo caso della fuga di Gesù in Galilea a seguito dell'arresto del suo mentore Giovanni il Battista, non possiamo far altro che parlare di fuga strategica, ma di questo ne abbiamo già parlato nel video precedente, non ci voglio tornare, ma era giusto, quindi doveroso fare questa precisazione. Stiamo analizzando quindi le azioni del Gesù essere umano, noi non trattiamo il Gesù divino, quindi non trattiamo il Gesù della fede, il Gesù della religione, quindi spero che questo, dopo ormai quattro anni in cui faccio video e scrivo libri, spero che questo ormai sia chiaro. Voglio analizzare con voi in questa chiacchierata, quindi fare una prosecuzione di quello che ci siamo detti in quella precedente, un carattere che è emerso di questo Gesù, perché come voi ben sapete più volte ho parlato di diversi Gesù che sono presenti nei Vangeli, quindi diversi Gesù che sono presenti in questo caso nel panorama evangelico. Abbiamo parlato di un Gesù combattente, un Gesù messianista, un Gesù rabbio, quindi un Gesù guru spirituale, un Gesù filosofo, un Gesù divino, quindi secondo i caratteri della cultura ellenistica e così via. In questo caso quello che sta uscendo fuori da queste chiacchierate che stiamo facendo sembra appunto ravvisare l'esistenza invece di un Gesù combattente, quindi un Gesù che incarna un certo tipo di messianismo politico molto radicale, forse, che ha contraddistinto molti messianisti dell'epoca del Secondo Tempio, quindi prima del 70 d.C. visto. E volevo analizzare con voi, io ne ho raccolto alcuni, ce l'ho qui davanti sullo schermo, volevo analizzare con voi alcuni dei detti che sono riferibili a Gesù nel Nuovo Testamento, perché molte volte si dice, eh ma il Nuovo Testamento è testo, un corpus di testi dove si ravvisa, dove è presente, dove è chiaro, è caricato, il carattere misericordioso, il carattere mite di Gesù, degli Apostoli, dove è presente, è caricato questo Dio misericordioso, dove c'è un messaggio di pace universale, di pace e amore, di amore verso i nemici, quindi noi andiamo a vedere esattamente se questa cosa è davvero presente nei Vangeli, o comunque se è presente in maniera tu cursi, quindi se è presente a 360 gradi, e analizzando quindi questi passi cerchiamo in qualche modo di vedere se c'è continuità con quello che ci diciamo detti fino ad oggi. Il primo passo che io voglio analizzare è quello di Matteo, capitolo 10, versetti 5 e 6, quando Gesù quindi deve inviare i propri discepoli a convertire le genti, e viene detto questo, questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti, non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Un concetto che viene anche ribadito nel capitolo 15 sempre di Matteo, versetto 24, non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele. Prima di fare i dovuti commenti voglio anche citare Matteo 5, quindi Matteo capitolo 5, versetto 17-20, dove vi è scritto. Non crediate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti? Non sono venuto ad abrogare ma a compiere. In verità vi dico, finché non passi nel cielo e nella terra, non uno iota, non un apice cadrà dalla legge prima che tutto accada. Chi dunque scioglierà uno di questi precetti anche minimi e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li metterà in pratica e insegnerà a fare lo stesso, questi sarà considerato grande nel regno dei cieli. Perché ho voluto citare questi tre passi prima poi di entrare nell'argomento principe? Perché questi tre passi tendono a dimostrare la forte ebraicità di Gesù. Molti dicono, sì ma Gesù è stato un punto di rottura per l'ebraismo, cioè Gesù ha rotto con l'ebraismo tradizionale aprendosi alle genti, aprendosi quindi al mondo. Il carattere di Gesù, quindi il carattere della predicazione di Gesù era un carattere universalista. Qui invece vediamo che è profondamente ebraico, quindi radicato perfettamente nella cultura ebraica. Addirittura sembra esserci quasi un richiamo contro la dottrina paulina. Chi ha letto per esempio il mio libro Il cristianesimo invenzione di San Paolo, chi ha visto molti dei miei video, sa perfettamente che sostengo come Paolo sia stato il vero elemento di distacco all'ebraismo e quindi forse è la vera miccia che poi ha portato all'accensione, ha scatenato quindi l'inizio del cristianesimo che si è distaccato poi dal Gesù anesimo, che è tutta un'altra cosa. Un Paolo che appunto criticava la legge e invitava a distaccarsi dalla legge dalla circoncisione, qui nella tradizione ebraica. E in questo caso vediamo Gesù in Matteo 5 che proprio dice chi dunque scioglierà uno di questi precetti anche minimi e insegnerà gli altri a fare altrettanto cosa che faceva Paolo, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Quindi qua sembra esserci quasi un eco anti-Paolina, quindi una forte ebraicità di Gesù contro chi insegna invece a fare il contrario. Quindi visto questo aspetto di ebraicità di Gesù presente ovviamente in queste sezioni di Matteo, ce ne sarebbero molte altre, ma io volevo sottolineare soltanto queste. Entriamo adesso nel succo del discorso. Abbiamo in questo caso Matteo 5 versetti 43-48, quindi dal 43 al 48, che viene utilizzato appunto come, ecco, nel Nuovo Testamento abbiamo questo messaggio di pace e amore. Gesù predica questa pace e questo amore e lo fa proprio in questi versetti e leggiamoli insieme. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siete figli del padre vostro celestre che fa sorgere il suo sole sopra i malvaggi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siete voi dunque perfetti come perfetto il padre vostro celeste. Qui effettivamente abbiamo un messaggio chiaro di amore universale dove Gesù dice non fermatevi al vostro prossimo, dove per gli ebrei il prossimo è il vicino suo, il vicino che fa parte della sua combriccola, della sua comitiva, del suo popolo, il prossimo è il prossimo facente parte del popolo, ok? Quindi non il prossimo in maniera indiscriminata. Gesù addirittura dice non fermatevi al vostro prossimo, ma amate anche i vostri nemici. Andate oltre la logica dei pagani, andate oltre la logica dei pubblicani. Quindi effettivamente qua sembra che Gesù stia promuovendo proprio in Matteo un messaggio di amore universale, ok? Però se poi andiamo cinque capitoli più avanti cominciamo a leggere qualcosa che sembra stridere con questo messaggio. Matteo 10 versetto 34. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace ma spada. Questo passo viene più volte commentato dagli esageri e dai teologi come un passo rivoluzionario, che Gesù, dove Gesù dice dovete combattere, quindi dovete andare oltre ecco la vostra zona di comfort, diciamo così, perché io non sono qui per ammansirvi ma per svegliarvi, per convertirvi. Questa cosa viene utilizzata in questo modo, cioè questo messaggio viene anche utilizzato in questo modo. Diciamo che potrebbe anche andare bene, dove Gesù dice, dove la spada ecco riferita qua da Gesù magari non è un messaggio di combattimento e di lotta politica, ma è un messaggio, ecco come dicono i teologi, un messaggio magari più spiritualista, più morale, eccetera. Però poi in questo caso andiamo nel capitolo 10, quindi sempre nello stesso capitolo, poco prima. Versetti 11-15, quindi dai versetti 11 al versetto 15. Gesù sta ammaestrando sempre i suoi, quindi quando voi andate nei vari villaggi fate quello che io vi dico, ed è questo. Entrando in una città in un villaggio, informatevi se c'è una persona proba e la restate fino alla vostra partenza. Per persona proba in questo caso si intende una persona giusta, abbiamo visto no? L'ebreo zadok, cosa significava, anche in contrapposizione con i peccatori, l'abbiamo visto nella puntata relativa a quella del Battista, ok? Entrando nella casa, datele il vostro saluto e se la casa ne è degna, scenda su di essa la vostra pace. Se invece non è degna, la vostra pace ritorni a voi, ok? E in che modo si capisce se quella casa è degna oppure no? Degna di ricevere la pace oppure di non riceverla. Leggiamo. Se uno non vi riceve né vuole ascoltare le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città scuotete la polvere dei vostri piedi e in verità vi dico, nel giorno del giudizio, alla terra di Sodoma e Gomorra sarà riservata una sorte più tollerabile che non a quelle città. Quindi qua addirittura leggiamo un messaggio molto duro, molto violento. Gesù addirittura dice andate verso quelle città, verso quei paesi, verso quei villaggi, entrate in una di quelle case. Se quella casa è degna, cioè se ascolta la vostra parola e vi accoglie, allora è degna della vostra pace. Ma se non farà quell'opera di accoglimento personale e di parola, ok? Scuotete la terra sotto i vostri piedi a testimonianza contro di loro e non vi preoccupate perché nel giorno in cui arriverà il regno, e poi sul regno ci torneremo nelle varie puntate, cioè nelle prossime puntate, scusate, quando arriverà il regno vi prometto che la sorte che toccherà quella città sarà addirittura peggiore della sorte che è toccata Sodoma e Gomorra. Non penso di dovervi ricordare la sorte che è toccata Sodoma e Gomorra nell'Antico Testamento. Fuoco che è sceso dal cielo, tutti morti. Quindi tutti, bambini, donne, uomini, anziani, innocenti, tutti morti, per il volere di Dio. Gesù addirittura dice verso quella città che non vi ha accolto ci sarà un destino addirittura peggiore di Sodoma e Gomorra. Alla faccia è l'amore universale, direi io. Però continuiamo ad andare avanti. Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli. Qui siamo in Matteo 11, 20-24. Mi piace sottolineare questo aspetto. Si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli. Qui non stiamo parlando di quel suo ritorno a Nazareth o quello che è. Ecco, l'abbiamo visto nella scorsa puntata, dove Gesù ha compiuto pochi miracoli perché la gente non credeva. Addirittura qui Gesù ha compiuto il maggior numero di miracoli, ci dice Matteo, ma nonostante tutto la gente non gli ha creduto. Questo è un aspetto molto interessante. Quindi allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli perché non siano convertite. E Gesù urla. Guai a te Corazin, guai a te Bezzaida, perché se a Tiro e Sidone fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolta nel cilicio e nella cenere. Ebbene io ve lo dico, Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una sorte meno dura della vostra. E tu, Cafarno, sarei forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se in Sodoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi ancora, scusate, esse esisterebbe. Ebbene io vi dico, nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura della tua. Quindi abbiamo, in questo caso, città che non sono convertite. E anche in questo caso vi invito a rivedere le vecchie puntate, le ultime due e le ultime tre, dove abbiamo parlato della conversione in Giovanni Battista. Cosa significava convertirsi? La metanoia, ok? Gesù dice, se non vi siete convertiti, qui se non siete passati dalla mia parte, farete una fine peggiore di Sodoma e Gomorra. Addirittura dice, Cafarno, Cafarno, fino agli inferi precipiterai. Qua vogliamo ricordare quello che c'è scritto in Matteo 5. Ama il tuo nemico, non limitarti al tuo prossimo. Ama il tuo nemico. Ma ancora, abbiamo Matteo 12, questo è molto interessante. Abbiamo Matteo 12, 30, e un parallelo è presente anche in Luca 11, 23. Gesù dice, chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Partiamo dall'inizio. Chi non è con me è contro di me. Quindi il messaggio qui è netto. E sembra ricalcare ciò che abbiamo detto prima, ok? Se non seguite quello che io dico, voi perirete. Bene? Ma poi dice Gesù, e chi non raccoglie con me, quindi chi non è con me, e con me fa frutti di conversione, allora disperde. Questo disperde ha sempre trovato difficoltà nelle traduzioni, perché esattamente non si è capito cosa potesse significare. E il termine greco, qui ho segnato, il termine greco c'è il termine scorpisei, ok? Che deriva poi da scorpisò. E il tagliere in questo caso, quindi il dizionario del tagliere, il lexicon, suggerisce questa traduzione. Io ve lo dico in inglese e poi ve lo traduzco in italiano. E quindi, to cut us under, cut to pieces, to scatter. E cioè, fare a pezzi e disperdere, ma in questo caso, i pezzi. Ok? C'è proprio questa traduzione nel tagliere. Quindi è molto interessante questa cosa, perché abbiamo anche dei parallelismi dove vengono utilizzati questi termini greci, ed è proprio il termine dove si disperdono proprio i pezzi anche del corpo, cioè fare a pezzi anche un corpo. Quindi qua abbiamo Gesù che dice, chi non è con me è contro di me, e chi non mi segue, il suo corpo verrà fatto a pezzi. Verrà disperso, i pezzi verranno dispersi. Sembra quasi un richiamo, questo, alla Genna, al Geinnon. La Genna è appunto la piana di Innon, Geinnon, ok? Dove, vicino a Gerusalemme, venivano bruciati continuamente i rifiuti. Quindi dove vi era un fuoco, dice anche il Vangelo, un fuoco inestinguibile, ma la teologia cristiana ha tradotto questo fuoco inestinguibile del Geinnon come l'inferno. In realtà questo fuoco inestinguibile era davvero presente fuori di Gerusalemme, perché si bruciavano continuamente i rifiuti. Quindi il fuoco non veniva mai spento. E Gesù lo diceva, lo dice molte volte questo, ecco, l'ho segnato nell'interlinea della San Paolo che prendo sempre in riferimento. Qua per esempio lo abbiamo nella predicazione di Giovanni il Battista. Ricordiamolo, la scura sta già sulla radice degli alberi, perciò ogni albero che non porta buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Quindi questo fuoco che ritorna. Ci troviamo in Matteo 3, versetto 10. Ma poi in Matteo, capitolo 7, abbiamo in questo caso, versetto 19, versetto 20. Ogni albero che non dà frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Anche in questo caso è così. Oppure, il senso della parabola è la zizzania. Siamo al capitolo 13 di Matteo. Quando gli apostoli chiedono il significato di quella parabola, Gesù dice, nel versetto 37 del capitolo 13 di Matteo, Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno. La zizzania invece i figli del male. Il nemico che la seminò è il diavolo. La metitura è la fine del mondo. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo, quindi con l'avvento del regno. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli a radunare dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità perché li gettino nella fornace ardente. Quindi anche qui un richiamo a questo fuoco. Ma poi leggiamo, tanto per sottenere ancora questo carattere duro di Gesù, certamente non pacifico, In Luca 22, versetti 26-38 Chi non ha una spada, qui quindi ritorna la spada, chi non ha una spada vende il mantello e se ne compri una. Infatti ciò che mi riguarda volge al suo complimento. E allora gli discepoli dissero, Signore, ecco qui due spade. Ma egli rispose, basta. Anche qui la lettura teologica dice, Gesù in realtà non sta ordinando quel tipo di spade, ma ne sta ordinando altre spade spirituali, come abbiamo visto in Matteo 10-34. Ma in realtà il termine greco qui basta, che sarebbe in questo caso i cano-nestin, si dica proprio bastante e, cioè ne basta effettivamente una, non due. Cioè soltanto ognuno di voi deve portarne una sola e non due. Perché poi vediamo in Luca 22-49-51, quindi dal versetti 49-51, quelli che erano con lui, quindi i discepoli che erano con lui sul Gezzemani, appena si accorso di quello che stava per accadere, dissero, Signore, dobbiamo usare la spada? E uno di loro colpì il serbo del suo maestro Cerdote e gli staccò l'orecchio. Ovviamente questa sezione della cornice pasquale la analizzeremo poi nelle varie puntate che arriveranno. molto, molto bene, in maniera molto approfondita. Ma questo per far capire e ricalcare il carattere intransigente, certamente non pacifico, di Gesù. E voglio andare verso la conclusione, citando in questo caso il Vangelo di Giovanni, che viene definito il Vangelo più spirituale, dove la bontà effettiva di Gesù esplode, no? In questa divinità che si rivela. Abbiamo in questo caso, da Giovanni capitolo 15, quindi Gesù che sta facendo le ultime raccomandazioni mentre sta pregando nel Gezzemani. Chi rimane in me, siamo nel capitolo 15, versetto 5 seguenti, chi rimane in me e io in lui, questi porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Quindi Gesù, ancora qua, ricalca il senso d'appartenenza verso di lui. Dovete rimanere con me. Se qualcuno non rimane in me, è gettato fuori come il tralcio e si dissecca. Poi li si raccoglie e li si getta nel fuoco e bruciano. Ancora qui ritorna questo fuoco. E qui addirittura si parla di questo tralcio che viene spezzato, un pochino come la dispersione dei pezzi del corpo, no? Chi non è con me, allora disperde. Quindi il suo corpo viene fatto a pezzi, viene disperso e si parla di questo gettare nel fuoco. Ma ancora, siamo nel capitolo 15, versetto 12, scusate. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Anche qui si parla, no? Di questo grande amore universale. Gesù in realtà sta parlando ai suoi discepoli. Dice, non entrate in contrasto fra di voi, siate uniti, ok? Fate gruppo, non disperdetevi in questo senso. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Qui il termine è molto chiaro, il comandare, l'ordinare. Quindi Gesù qua sta ordinando, sta comandando, ok? Quindi, se torniamo a Matteo 5, in questo caso, amerai il tuo prossimo e amerai e pregherai per i tuoi persecutori, per i tuoi nemici. Ma poi qua abbiamo Gesù che dice, voi siete miei amici, però solo se fate ciò che io vi dico. Ok? Chi non è con me, è contro di me, e chi non raccoglie con me, il suo corpo verrà fatto a pezzi. Chi non è con me, disperde. Il suo corpo verrà fatto a pezzi, è gettato nel fuoco. Se vogliamo poi, ecco, tradurre tutto questo in un unico senso unitario, quindi unendo tutti e quattro i Vangeli. Voglio concludere con una considerazione che ho più volte fatto, ma penso che in questo caso sia calzante, perché abbiamo visto, abbiamo rimarcato il carattere ebraico, forte di Gesù, che è presente in Matteo, è presente anche negli altri Vangeli, ma in Matteo è ancora di più forte. Abbiamo visto il suo carattere intransigente, in questo caso non universalista, e voglio citare in questo caso, l'ho fatto più volte, ma voglio farlo anche adesso, Rudolf Bultmann nel suo libro Gesù. Rudolf Bultmann è stato uno dei più importanti teologi dello scorso secolo, il quale dice il carattere nazionalista del Regno di Dio porta, non significa appunto che Gesù sia il rappresentante di una concezione universalistica, Anche per lui, come per i suoi contemporanei, era un'evidenza che il Regno di Dio verrà per il popolo giudaico. Fra le sue parole che ci sono state trasmesse, ce ne sono di quelle in cui il Regno di Dio e nello stesso tempo il Regno dei Pi che saranno consolati. La predicazione di Gesù non oltrepassò, dice Bultmann, i confini del popolo giudaico. Egli non pensò mai ad una missione fra i pagani. Solo a prezzo di gravi conflitti si giunse nella comunità primitiva alla missione fra i pagani. Ed era evidente in un primo tempo che tale missione, quindi in un primo tempo, prima che arrivasse Paolo con il cristianesimo, era pensata come un guardare adepti e guadagnare squadre adepti al popolo eletto alla comunità messianica giudaica. E questo lo mette in corsivo per sottolinearlo Rudolf Bultmann. Il pagano che voleva appartenere agli eletti del tempo finale doveva farsi circoncidere e accettare la legge giudaica. Questo non significa perciò che Gesù pensi in modo universalistico. Meno ancora che il giudeo l'uomo come tale ha una tale pretesa. Così a Gesù gli è estraneo del tutto il concetto umanistico dell'universalismo. Quindi ciò che appare in questi pochi messaggi che abbiamo letto va a smentire totalmente chi dice eh ma nei Vangeli si parla di amore eh ma nei Vangeli si distacca completamente dall'Antico Testamento. Addirittura i Vangeli vanno a continuare una certa linearità un certo fil rouge presente proprio nell'Antico Testamento. Gesù va a rimarcare certi aspetti una certa intransigenza ebraica che è presente nell'Antico Testamento. Gesù sembra ricalcare effettivamente e lo vediamo lo vedremo poi le volte successive soprattutto quelle dedicate alla Pasqua che saranno molto importanti su cui ci soffermeremo molto Gesù incarna un messianismo politico intransigente e concludo dicendo che questa tesi di un Gesù messianista zelota quindi che era combattente che ha in quel modo ricalcato questa questa pretesa messianica di tipo politico non è una teoria peregrina quindi ovviamente non è la sola teoria non ho detto che sia la teoria valida ma penso che sia quella più coerente da un punto di vista storico e certamente trova ancora molto riscontro a differenza di quelli che possono dire grandi autori come per esempio il Meyer con il suo ebreo marginale ok per esempio espresso dal professor Bernet Eurupio con il suo libro L'invenzione di Gesù di Nazareth un libro che non vuole certamente essere un libro miticista quindi non vuole negare la figura storica di Gesù ma vuole rimarcare oltre che criticare i modelli attuali di indagine storica su Gesù e sui Vangeli quindi le varie metodologie vuole anche rimarcare e criticare quella che è stata l'invenzione le invenzioni che poi hanno ricoperto quella possibile quindi ricordiamo ancora una volta possibile figura storica quindi io vi lascio con queste poche ma succose informazioni che abbiamo anche commentato insieme spero vi possiate fare una vostra idea e quindi cominciare a cercare voi stessi con la vostra testa quello che ho detto io non è certamente verità rivelata quindi cercate anche voi e vi lascio ovviamente poi alla prossima puntata e come sempre vi ricordo i miei libri il cristianesimo come invenzione di san paolo il cristio illegittimo dei semi dei scritto con Mauro Biglino e prima del cristianesimo e spero che prima di natale spero di potervi anche parlare del nuovo libro che uscirà nei primi mesi del 2022 e anche di futuri progetti editoriali che sono già in corso quindi vi ringrazio ancora per avermi seguito in questa mezz'oretta e noi ci vediamo alla prossima chiacchierata e alla prossima puntata ciao a tutti